Carlotta Siciliani, studentessa di architettura a Vienna, classe 1994. Il precariato è una condizione quasi permanente. Hai paura del futuro? Ma sinceramente no, con la condizione che ho a Vienna, con le diverse lingue che conosco alla fine. Mi sento abbastanza tranquilla perché so che in un futuro comunque avrò un'ampia scelta. Potrò andare in Germania, in Austria, in Svizzera e comunque avere un buon guadagno, una buona vita ed essere rispettata come dovrei essere rispettata. Italia non l'è proprio citata. Prendiamo nota. Facciamo un po' di ordine. Papà italiano, mamma polacca, vivi in Austria, a Vienna, dove studi e ogni tanto lavori. È questa la nuova Europa? Sì, certo. Questa è la nuova Europa ed è molto interessante. è una via di mezzo tra due mondi, soprattutto in Austria che è proprio il mitte l'Europa, si sa. Quante lingue conosci? Conosco quattro lingue, polacco, italiano, inglese e tedesco. Allora, sapresti dirmi in tedesco? Carino, vite rinviate. Peccato per il conduttore. E in inglese? In inglese diventa E in polacco come diventa? In polacco diventa Fa' una trasmissia, vite rinviate, alle redacto troche d'ognicego. L'Italia? Un paese fatto apposta per i giovani. E questo in che lingua lo devo dire? Tedesco. Tedesco. Italian, a land for young people. In inglese? Italy, a land for young people. Polacco. Questa è proprio ironica. Guarda, questa solo in tedesco. Spezzeremo le regne alla Grecia. In tedesco diventa praticamente Ha una sfumatura molto nazista E diciamo che trasforma una citazione Di un caro amico di Benito E diventa Drunk nach Griechland. Mi fa paura solo sentire? Infatti sì. Quanto ti manca? Il bel paese. Ma un po' mi manca per il cibo Oggetti come il bidet Alla fine che non si trovano Questo è importante. Però non ci tornerei mai. Le parolacce. In che lingua le dici? Eh, le parolacce un po' Diciamo faccio un mix con tutte le lingue Un po' di polacco Un po' di tedesco Molto inglese anche. Dimmi una parolaccia in tedesco Senza dirne la traduzione. Scheisse. Scheisse lo posso dire a denti stretti Che è perfetta. Proprio scheisse fantastica. In polacco? In po' curva. Curva è un'altra parola fantastica E molto usata dai polacchi. Quindi ogni qualvolta tu ti trovi in autostrada E vedi un cartello sulle curve Ti viene da ridere. Ti capita mai di pensare in una lingua diversa Rispetto a quella in cui stai magari parlando? Ma purtroppo quasi sempre mi capita Praticamente sempre Soprattutto da tedesco e inglese Che sono due lingue che fanno proprio a cazzotti insieme Un po' come Inghilterra e Germania si sa Di la verità A volte per rispondere male ad un amico Al ragazzo, all'amica, alla mamma, al papà Parli in tedesco Magari bisbigliando Sicuro, sicuro Soprattutto scheisse ci sta sempre Ti manca un po' l'Italia Anche per i nostri modi Un po' latini? Un po' sì, devo dirlo Cioè è molto simpatico È molto positivo Le persone sono molto più positive Rispetto agli austriaci Sono molto meno timidi C'è un video che dobbiamo vedere assieme Ok Non mi interrompere se no perdo il filo Dunque, scusami Saga Bittichén Noio Saga? Ha capito Ha detto Dopo ti spiego Noio Volevamo Volevamo Savoare Noio volevamo Savoare L'Italia Saga In più c'è anche Berlusconi Che ha dato una buona reputazione All'estero Ogni riferimento è puramente casuale Favorevole o contraria? All'eutanasia? Favorevole All'aborto? Favorevole Alla riapertura delle case chiuse? Favorevole Al blocco immigratorio? È contrario assolutamente Quanto costa? In Austria un chilo di pane? Ma penso 80 centesimi magari Un litro di latte? 90 centesimi Un gelato? È un euro e mezzo Due euro purtroppo Telefonami Fra vent'anni Lo cantava Lucio Dalla Come ti immagini tu Fra vent'anni? Ma soprattutto dove? Allora mi immagino sicuramente Con un ottimo lavoro Rispettata e Non lo so in qualche parte del mondo Ma sicuramente in un posto Molto migliore rispetto all'Italia Grazie a tutti Grazie a tutti